Notatori. Mancano poco più di quattro ore all'ora X per il passaggio nei cieli del nord Italia di un satellite della NASA che si distruggerà a contatto con l'atmosfera. Il rischio però è che qualche frammento possa cadere in Italia. Per gli ultimi aggiornamenti in diretta dalla redazione internet Giancarlo Usai. Sì, c'è l'1,5% di probabilità che alcuni di questi frammenti del satellite della NASA in rotta di collisione con l'atmosfera terrestre arrivino anche sul territorio italiano. Possiamo vedere le immagini di una simulazione al computer. Il satellite dovrebbe distruggersi completamente attraversando l'atmosfera ma alcuni pezzi potrebbero resistere. Le ultime notizie che arrivano dalla protezione civile riguardano la possibilità che i frammenti sprigionino un gas tossico. Per questo gli esperti raccomandano a chi dovesse avvistare di non avvicinarsi e chiamare immediatamente le autorità. Ed è stato poi diffuso un avviso a livello europeo per tutti gli aerei in volo dopo la nota dell'ENAV di ieri, anche se per ora non è stata prevista alcuna chiusura dello spazio aereo. Vi terremo ovviamente aggiornati, seguiteci su tg1.rai.it